Uè bella a tutti ragazzi! Prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator Xyuderone, grazie mille per il vostro supporto, attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su Instagram uno screen, quello che volete, io vi reposterò. Ma adesso video! Porco di azz... Ok 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 allora la discesa non è stata proprio bruttissima ma è successo una cosa che non doveva succedere non dovevo morire una caglia Non ha sparato! Vi giuro che non ha sparato! Perché non ha sparato? Ma non ho missato! Non è partito il colpo di Spaz! Nella mia lobby c'è un cosiddetto stronzo nessuno sa chi è devi seguirlo da te con attenzione e precisione con il camion arriva tu non li vedi ma loro credi sparano proprio a te e snappi di qua, snappi di la ma non c***o da fare snappi di la, snappi di qua devono andare a c***are snappi di la, snappi di qua questi sono bravi snappo bravino, snappo bravino che cosa ci fai di qua dai su continua a snappare e lo xyuderon lo xyuderon dai snappa e non arrenderti mai ora ecco la mitraglia aspetta aspetta no col popo viene meglio andiamo ma come ho fatto? ma non era neanche di qua fermo no no col piccone col piccone col piccone vieni che mi serve da piccolarti zio BLUTAL io mi ammazzo ciao 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 no scala dentro ma no no aspetta come hai preso qui scusi eh ho fatto i pre fire mentre l'hai rotto mmm non conosce? mmm mmm sagace sagace vai 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 dai ragazzi dai ragazzi attenzione 3v2 si spamma like let's go nice let's go let's go bello 121 grazie crom grazie me l'hanno dedicata grazie grazie let's go 1-2-3 1-2-3 1-2-3 la madonna e bestia cioè no no tra madonna e bestia c'era una virgola supermico 9 no piano no 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 qui dovevano assolutamente spingere bravissimo l'avversario riflesso no vabbè no ha citato no non è possibile non è possibile no ragazzi ha citato quello da fare si si non può averlo fatto ma cosa gli ha fatto? eeeh era il mattoso Mattaisama non ci credo è il Tyson non ti credo il Mattaisama questo non ha citato guys questo gli ha rotto il c***o il Mattaisama altro che altro che c***o bravo Benuzi let's go 1-2-2 what the f*** Siete sicuri che non mi sentono? please without fuel sali sali let's go let's go let's go potremmo avercela fatta no 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 I say without the fuel I say without the fuel adesso mi in c***o adesso mi in c***o Cristo era fatta era fatta era fatta per vincere con 30 fps peccato ero convinto non mi avesse visto vabbè 5.000 bits persi chiediamo 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 figlio di p***a figlio di p***a nooo nooo veramente figa tua madre gli ho visto disegnare dei dipinti ma dio caro le disegnava con le chioppe figlio di p***a c***o da cocco i francesi mi stanno si separando e lo dicono anche francese 30 bitini bello mio france andiamo no 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 shusha manoeuvre shusha baguette impara a cucinare invece che scassare la m***a lavati le palle col bidet andiamo io mi dissocio da tutte queste affermazioni io mi dissocio da tutte queste affermazioni f***a tua madre quella maldracca maiala l'urida snorra della m***a della m***a della m***a della m***a della m***a ma che come c***o va bene benissimo d'accordissimo 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 signorina mia no ma lei non sa cosa ho detto oggi pizza c***o oggi pomeriggio alle 4 è entrata la pub e li faccio ciao amo poi mi sono risinato poi mi dice lo faccio hai preso il pesce però eh sì ma intendevo intendevo il pesce da mangiare domani nel fritto niente lui giustamente parla con i suoi e fa più che bene eccoci eccoci pizza 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 aspetta MISSA LOVA 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 MISSA LOVA LOVA A GIRL MISSA LOVA 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 MISSA LOVA LOVA YOOOOOO SCICODE MISSA BOMBASTIC SAMMO FANTASTIC SAMMO FANTASTIC SAMMO WATCHING WHATS NESS 25.000 BIT PORCA DI F***A MI FA VERAMENTE SCALDARE IL CUORE GRAZIE 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 VAI OK OR서 BARCHA DIares PARCHA DIares BARCHA DIares BARCHA DIares BARCHA DIares baffalo in segue baffalo in segue bisco di capire da dove andare attenzione sempre in tre fa cadere giustamente in acqua e poi sale, prende oh my god baffo una delle più belle giocate degli ultimi degli ultimi giorni, non lo so perché si cita con la mitraglia guys, non lo so ma, ma, ma dai ma che schifo raga ma non si può è schifo questo guys ma spara al volo e prende le kill così no vabbè dai che c***o, no vabbè raga cosa sta facendo ma questo qua li pisce in testa Robin Hood sono molto curioso di ma e vabbè, niente continuiamo a seguire l'hacker ah c'è pure lo speedhack niente lui tira arcate a caso e ammazza la gente ma poi io vorrei vorrei aprire una discussione e una parentesi guys che c***o di divertimento hai e di soddisfazione che provi a giocare così perché io non capisco qual è il divertimento che c***o Grazie per la visione!